Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, consueto della mia libreria e in questo video torniamo a parlare di uno dei personaggi cardine del disastro militare italiano della seconda guerra mondiale non parliamo di Graziani, 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 non parliamo nemmeno di Badoglio ma parliamo di Ubaldo Soddu quello che diceva basta un piatto di pasta asciutta e un po' di musica e non c'è niente di meglio, ok Ubaldo Soddu, l'arrampicatore sociale, Ubaldo Soddu, il galleggiatore, Ubaldo Soddu Ubaldo Soddu, il fenomeno paranormale che praticamente ci condusse dopo l'inetto Visconti Prasca al quasi disastro della campagna di Grecia, insomma Ubaldo Soddu come ben sapete era uno dei pezzi grossi del ministero della guerra era sottosegretario allora, 10 giugno 1940, cioè per far vedere come l'Italia fascista concepiva l'entrata in guerra la leggerezza, la superficialità, la cialtroneria con cui l'Italia fascista entrò in guerra signori tenetevi forte è una cosa che mi ha passato China Cat Sunflower è una cosa che quando l'ho letta non riuscivo a crederci mi sono fatto qualche ricerca e cioè credo che la mia faccia dica tutto perché veramente è vero, cioè quello che vi sto per raccontare vi giuro è vero, vi giuro è veramente successo vi giuro che non me la sono inventata perché? allora, 10 giugno 1940 l'Italia fascista entra in guerra Mussolini spinge l'Italia in guerra Mussolini si affaccia al balcone di Palazzo Venezia con la famosa popolo italiano corriere armi bla 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 la parola dormire una sola, vincere e ciao ok che cosa accadde? che come ben sapete entriamo in guerra ci si immagina che in guerra tutto l'apparato militare italiano si come dire fionde cioè insomma sia focalizzato al massimo delle sue potenzialità sul combattere la guerra sul preparare la guerra sul come affrontare la guerra allora 10 giugno 1940 l'Italia fascista entra in guerra la guerra fascista cercata voluta bramata e desiderata dal Duce ok ma che cosa succede pochi mesi dopo il 27 agosto 1940 soddu 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 il galleggiatore ok inoltre una spettacolosa circolare ripeto io quando ho letto questa cosa vi giuro ve la dico subito insomma 27 agosto 1940 il generale Ubaldo soddu inoltre la circolare numero 61920 61920 ripeto circolare 61920 del 27 agosto 1940 firmata da Ubaldo soddu questa circolare prevede la chiusura degli uffici del ministero della guerra alle 2 di pomeriggio sì alle 14 pomeridiane alle 2 pomeridiane alle insomma alle ore 14 il gli uffici del ministero della guerra chiudevano 27 agosto 1940 siamo in guerra da due mesi e il sottosegretario nonché vice capo di stato maggiore Ubaldo soddu emana una circolare che stabilisce la chiusura pomeridiana degli uffici del ministero della guerra c'è dunque 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 siamo entrati in guerra da due mesi più o meno ci si prepara in Libia alla tragicomica avanzata di Graziani su Sidi e il Barrani preludio alla catastrofe di Compass già Mussolini ha in testa da tempo la preparazione dell'attacco alla Grecia la campagna di Francia è andata come è andata che abbiamo oggettivamente fatto una figura di palta veramente perché come dire sulle Alpi l'esercito italiano fu veramente cioè mentre l'armée de terre francese collassava sotto i colpi di maglio della Wehrmacht l'esercito fascista il regio esercito italiano lanciatosi nella guerra fascista voluta da Mussolini e ripeto guerra fascista non è che me lo sono inventato io come termine è il termine con cui Mussolini lanciò l'entrata in guerra dell'Italia perché questa lo disse Mussolini nelle sue carte lo disse Mussolini nei suoi discorsi questa non è una guerra comune questa è una guerra fascista la lanciò come guerra fascista la guerra fascista cominciò in maniera disastrosa con la figuraccia contro la Francia i tedeschi annichilivano l'esercito francese i francesi qualche centinaio di chilometri più a sud bloccavano senza troppa fatica la nostra faticosa avanzata verso mentone che vi posso dire signori miei e il 27 agosto 1940 il generale Ubaldo Soddu emana questa circolare la 61920 che impone la chiusura alle ore 14 degli uffici del ministero della guerra ci bombardano a chi chiamo al ministero scusate telefono al ministero della guerra chiuso ci hanno scilurato due convogli telefono al ministero della guerra chiuso cioè pomeriggio non lo so gli inglesi attaccano uno dei nostri van post e si avvisa il ministero della guerra chiuso cioè perché perché evidentemente qualcuno al ministero se ne voleva andare a fregene a farsi i bagni in mare appuggiare i piedini nell'acqua e mettersi a quattro di spade per abbronzarsi cioè insomma signori la miseria cioè veramente la miseria del fascismo come diciamo apparato militare emerge clamorosamente da questa circolare di Soddu e non venitemi a minare il torrone con la storia ma Soddu era minetto Soddu era solo Soddu allora uno Soddu era uno dei pezzi grossi del ministero due due Soddu a quei posti di comando non ce li aveva messi certo Stalin non ce l'aveva certo messo Stalin non ce l'aveva certo messo Churchill Soddu era arrivato lì semplicemente perché era stato come ho già detto nel video a lui dedicato un abilissimo galleggiatore nella medio bassa politica di corridoio del tempo e si era sempre trovato al posto giusto nel momento giusto terza cosa le circolari allora come ben sapete Mussolini da Mussolini dipendeva tutto l'apparato bellico italiano e la circolare 61920 emanata da Soddu non poteva essere emanata fisicamente senza l'approvazione delle alte sfere leggi Badoglio leggi Graziani leggi Cavallero leggi soprattutto il caporale d'onore della milizia volontaria sicurezza nazionale nonché collare dell'annunziata nonché primo maresciallo dell'impero e duce del fascismo ripeto cavalier benito amilcare Andrea Mussolini sì sì non stiamo a menare tanto allora non stiamo a menare tanto il torrone signori non stiamo a menare tanto il torrone Mussolini per tutta la durata della guerra volle controllare a tutti i costi nonostante la sua incompetenza tutto l'apparato militare italiano ok non il cane ricordatevi una cosa il cane abbaia sempre dove indica il padrone ok e una circolare come la 61920 firmata da Soddu non poteva essere emanata senza l'approvazione del duce cioè pensateci ci ritroviamo in guerra ci ritroviamo a dover combattere una guerra ci ritroviamo lanciati in guerra e nel periodo estivo il ministero della guerra chiude gli uffici di pomeriggio allora io a Ostia a Fregene ci sono anche stato sono bei posti al mare ci si sta bene però oggettivamente dopo 20 anni di propaganda bellicista dopo 20 anni in cui il fascismo menò clamorosamente il torrone al popolo italiano tuonando ah la guerra ah la guerra ah la guerra igiene del mondo ah l'Italia deve combattere ah l'italiano deve combattere spietatamente ferocemente senza rete senza tre ma il ministero della guerra chiude alle 2 di pomeriggio no Maria io esco cioè vabbè signori scusate allora io ripeto quando l'ho letta io non ci credevo non ci volevo credere ho detto no non è possibile vi prego ditemi che non è possibile invece sì Soddu ha fatto questa circolare ha fatto questa circolare e questa circolare fu avallata da Mussolini cioè rendiamoci rendiamoci conto cioè rendiamoci cioè signori allora il fatto è questo per quanto che io non ami assolutamente la guerra io ritengo cioè allora io potrei teoricamente per quanto io gestisca questo canale youtube per quanto che io abbia speso veramente decine di migliaia di euro in libri che parlano di armi guerra e vicende storiche legate alla guerra io odio la guerra io tutto vorrei in vita mia tranne che vedere una guerra definirmi pacifista in senso lato sì però oggettivamente la guerra è da sempre un motore immancabile nelle vicende umane la guerra è brutta la guerra è una tragedia la guerra purtroppo esiste ok ma questa cosa c'è questa cosa c'è questa cosa del della 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 terrificante cioè di questa terrificante circolare 61920 cioè è è qualche cosa di terrificante c'è qualche cosa di osceno oserei dire cioè tu stai mandando cioè stai preparando stai già preparando l'invasione della Grecia perché i prodromi insomma i programmi per l'invasione della Grecia erano pronti già da agosto se vogliamo stai preparando l'invasione della Grecia è in atto l'arrancante avanzata di di Graziani verso Sidi e il Barrani la flotta non sa che pesci prendere perché la dottrina operativa la dottrina operativa della regia marina che prevedeva l'impiego della nostra flotta contro forze navali non troppo superiori nel Mediterraneo centrale sta già incrinandosi e da lì a qualche mese collasserà su se stessa e che cosa succede al ministero della guerra a guerra appena cominciata che alle 14 alle 2 del pomeriggio gli uffici chiudono e i dipendenti cosa fanno se ne vanno al mare acciucciarsi una gazzosa con la moglie con l'amante o con l'amorosa chiedetevi perché al posto di vincere e vinceremo abbiamo perso e abbiamo perso anche tanto male che vi posso dire una cosa ridicola una cosa una cosa terrificante se vogliamo ahimè tragicamente vera che fa il paio non so se vi ricordate con i dazzi doganali richiesti per i bombardieri inglesi abbattuti le dogane che vogliono i dazzi dall'aviazione perché hanno abbattuto bombardieri inglesi sul suolo terrestre importazione illegale di materiali alle 2 di pomeriggio la guerra dichiarata da due mesi si chiudono gli uffici del ministero della guerra non guardate me io all'epoca non c'ero credo a meno che non sia la reincarnazione di un qualcuno che all'epoca era lì io nel 1940 non c'ero sono nato 26 anni dopo però oggettivamente signori scusate se ve lo dico ma vi rendete conto vi rendete conto cioè rendetevi conto alle 2 di pomeriggio il ministero della guerra chiude e impiegati quadri e quant'altro così vanno al mare a fregere abbiamo perso chiedetevi perché tutto qua insomma signori io che vi posso dire una farsa detto la tragedia una volta che ha toccato il culmine non può far altro che degenerare in farsa qui dalla farsa non ci siamo mai mossi insomma signori la circolare 61920 del 27 agosto 1940 allora la fonte è il libro purtroppo disponibile solo in inglese del professor McGregor Knox intitolato Hitler's Italian Ellis pagina 53 and the ministries return in July in July 30 to its traditional daily closing hour of 2pm il ministero ritornò nel luglio 1940 alla sua tradizionale chiusura alla sua tradizionale ora di chiusura quotidiana delle due di pomeriggio praticamente soddù ai suoi subordinati circolare numero 61 920 27 agosto 1940 primo aiutante di campo sezione speciale faldone 67 cartella circolari varie 1940 i documenti sono questi i documenti parlano chiaro i documenti di soddù i documenti del fascismo parlano chiaro su come il fascismo iniziò ad affrontare la seconda guerra mondiale no maria io esco scusate no vabbè 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 come sempre signori come sempre signori ripeto io non ci credevo quando l'ho letta ma ahimè è tragicamente vero quindi quindi adesso cari signori tocca a voi qua sotto commentate fatemi sapere come sempre le vostre opinioni aspetto i vostri commenti come sempre arrivederci al mio prossimo video come sempre ciao ciao